aprendo la cassettiera e visualizzandola bene all'interno ci siamo accorti che il fronte retro appunto dei cassetti è intarsiato sia da un lato vedete che dall'altro lato e questo è valido per tutti i cassetti più lo accompagna un perfido questo è un segno evidente che questo mobile è stato costruito con legni di recupero